E dunque si sa che aumentare le chance di sopravvivenza del paziente oncologico è fondamentale di agnosticare il tumore in tempi rapidi in modo da poter intraprendere le cure necessarie nel più breve termine possibile. In questo senso un'importante novità arriva dai ricercatori della Cleveland Diagnostica che hanno messo a punto un nuovo test del sangue che può considerarsi maggiormente attendibile rispetto al tradizionale test del PSA che viene utilizzato per misurare il rischio di tumore alla prostata. In Italia ci sono 484.170 persone affette dal cancro alla prostata, 34.800 nuovi casi all'anno e 7174 decessi. È la neplosia più frequente tra i soggetti di sesso maschile e rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori di agnosticati a partire dai 50 anni di età. La buona notizia è che grazie alla diagnosi precoce e a terapie sempre più efficaci c'è stato un aumento del tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, passato dall'88,6 del 2016 al nuovo mantuno del 2017. Il nuovo test messo a disposizione dai ricercatori si chiama ISOPSA. La novità sta nel fatto che mentre nell'esame standard si misura la concentrazione del PSA nel sangue, il nuovo test è in grado invece di rilevare eventuali cambiamenti nella struttura molecolare dell'antigene prostatico, ovvero del PSA stesso. Il test che è in grado di rilevare la concentrazione delle diverse strutture della molecola del PSA. In effetti, dato che non sempre i valori alterati del PSA indicano necessariamente la presenza di un cancro, l'utilizzo di questo tipo di esame potrebbe rivelarsi molto utile sia nel caso di tumori erroneamente agnosticati sia per evitare il trattamento di quelli di natura berignana. L'esame per la misura del PSA all'antigene prostatico specifico, una cronica, è stato approvato dalla FDA americana negli anni 90. Tuttavia, riguardo alla sua attendibilità per la diagnosi di un tumore alla prostata, negli ultimi anni sono stati avanzati dei lupi, in quanto eventuali valori alterati potrebbero anche indicare non necessariamente un tumore, ma una iperplasia prostatica berigna oppure un'infezione. E pertanto, assieme al PSA vanno considerati altri elementi come l'età del paziente, la sua storia clinica, la presenza di eventuali fattori di rischio. Grazie. 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 Grazie.